Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Partiamo facendo una rapida sintesi delle notizie di oggi, i quotidiani cartacei, le prime pagine, poi andremo a vedere i quotidiani online, le previsioni meteo e tutti gli ultimi aggiornamenti. Nel frattempo vi ricordo il nostro sito radionuova.com dove potete seguirci anche in diretta streaming, oltre chiaramente ai 90 e 96.9 MHz in modulazione di frequenza. Potete vederci anche via video sulle pagine social di Radio Nuova in blu. Dicevo, partiamo con la sintesi delle notizie del giorno, la lettura delle prime pagine dei giornali. Vediamo innanzitutto il resto del Carlino Macerata, dalla Puglia i pendolari dei furti, ritrovati a Barletta Camione e Rimorchio rubati a una ditta di trasporti di Porto Recanati. La fotonotizia invece ci porta direttamente a Macerata, il canile, tenete i dipendenti, cambio della guardia, battaglia dei vecchi gestori per i lavoratori fragili. In consiglio comunale, scintilla in aula, sempre a Macerata, sulle scelte culturali, la De Padova vota con l'opposizione. La polemica, sbagliato, dedicare solo il sottopasso a Trubbiani. Indagini dei carabinieri. Moldavo rapinato al distributore, denunciati due connazionali. Aziende, Medstore, primo negozio juice dopo la fusione. E poi la CNA preoccupata, vedremo anche il fronte economia. Un anno nero, scomparse, 700 imprese. Le altre notizie dal territorio. A Torrentino, Don Rino porta in Burundi 14.000 euro di aiuti. E poi a Civitanova, pochi frati, il convento per ora evita la chiusura. Vedremo. Corriere Adriatico, Pasqua, ristoranti sold out, già pienone nel Maceratese, dalla costa alla montagna. Boom di richieste dalla vicina Umbria. Molti locali costretti a rifiutare le prenotazioni per mancanza di camerieri e personale di cucina. Lettini e ombrelloni, mini rincaro. La fotonotizia ci riporta direttamente sulle coste marchigiane. I balneari, inevitabile per mantenere la qualità. E poi il nuovo codice degli appalti. Ossigeno per le marche. Imprese e sindaci giudicano. Le norme a corciatempi lance, riferisce. Inutile allarmismo sull'affidamento diretto. Sempre sul fronte regionale, l'assessore Baldelli raddoppia il rischio. Troveremo altri fondi, si parla chiaramente di infrastrutture. Macerata, per la banda dei furti scattano tre denunce, rubati oro e gioielli. San Severino Marche, Borioni all'attacco. Emergenza Pediatri, serve una soluzione. Monte Cavallo, in una SAI dal 2017, il Comune vuole l'affitto. E gli arretrati. Sono queste le principali notizie del giorno. Ed ora entriamo nei giornali. 8.37, partiamo col resto del Carlino. Il caso maceratese del Canile. La meridiana ha i saluti. I nostri lavoratori fragili devono essere riassorbiti. La direttrice Vittori sono in cinque. Ad oggi nessuno li ha voluti incontrare né ascoltare. Nessun rispetto della clausola sociale. La lettera e i dipendenti non si sono mai risparmiati. Una meravigliosa avventura. Questo è il virgolettato a pagina 2. Vissuta per oltre 20 anni. Ecco, ieri la cooperativa sociale meridiana, che lavora con persone fragili e a rischio e marginazione sociale, ha chiuso per l'ultima volta i cancelli del canile comunale. La direttrice generale, Barbara Vittori, nella lunga lettera di ringraziamento per salutare tutti i cittadini e ricordare un periodo lunghissimo, contressegnato da migliaia di cani curati e dati in adozione, non può fare a meno di sottolineare che per il cambio della gestione del canile, che avverrà oggi, i suoi cinque dipendenti hanno perso il lavoro, nonostante il massimo impegno della cooperativa. È una clausola sociale che impone al nuovo gestore e per il loro riassorbimento a 24 ore dalla termine della gestione della meridiana, non hanno ricevuto neppure una parola su ciò che ne sarà del loro futuro. CGL, Cisle e Will, naturalmente insorgono i sindacati, con una di Fidel personale, infatti va reimpiegato. Veniamo ora a un altro tema, la polveriera in comune, così la sintetizza, oggi il resto del Carlino, le scintille in consiglio, Miliozzi, più condivisione sulle scelte culturali, la De Padova vota sì. Tensioni maggioranza, l'esponente della civica Parcaroli, si schiera con l'opposizione, la mia mail ignorata da Cassetta, la minoranza riferisce a Coraggio. Insomma, tensioni maggioranza, se da un lato, almeno ieri si è potuto svolgere il consiglio comunale, dopo che martedì era saltato per mancanza del numero legale, ieri si sono viste scintille e la miccia è stata la mozione del consigliere d'opposizione David Miliozzi di Macerata Insieme, con cui chiede una maggiore condivisione, sulla programmazione culturale. 14 contrari, 11 favorevoli il risultato, ma tra quelli a favore, spicca Sabrina De Padova, che è consigliera di maggioranza della lista civica Parcaroli. De Padova ha definito la mozione di Miliozzi legittima e condivisibile. C'è anche un altro tema, quello della festa del 25 aprile, messa in secondo piano, è cicaré all'attacco e sul reddito di civiltà è battaglia tra Monteverde e vicesindaco. L'agguato, l'agguato, avvocatessa accoltellata, ho rischiato la vita, l'accusa al suo assistito, è tentato omicidio, Federica Maccioni è stata operata d'urgenza, un polmone perforato, anche il sessantenne è ricoverata all'ospedale in stato di arresto. Sono consapevole del rischio che ho corso, ora sono serena. Sono le parole dell'avvocatessa Federica Maccioni, avvocatessa maceratese, accoltellata appena 24 ore prima dall'uomo di cui è amministratrice di sostegno a Filottrano, uno dei cinque fendenti che l'hanno raggiunta giovedì pomeriggio è arrivato ad un polmone perforandolo, per questo è stata sottoposta nella stessa serata di giovedì a intervento chirurgico in anestesia locale. La precauzione dei medici chiaramente massima per via della lesione al polmone causata dal sessantenne sulla schiena e dalla ferita più profonda anche al torace, ma comunque la 34enne avvocatessa fortunatamente fuori pericolo. Rapinato al distributore denunciati due moldavi, LSOS Sicurezza da Macerata in via Pancalducci avevano aggredito un connazionale prendendogli 1600 euro identificati i tre responsabili dei furti di gioielli e contanti nelle abitazioni. Si fa qui una sintesi dei vari interventi dei carabinieri, ritirate quattro patenti, peraltro sul territorio per guida in stato di ebrezza, otto multe per violazione al codice della strada. E poi l'economia. L'anno nero, così titola il resto del Carlino, pagina 6, 700 imprese scomparse nella nostra provincia. Nelle Marche, la provincia di Macerata è la più in sofferenza. Moriconi della CNA dice che le cause sono molteplici e meritano un approfondimento. Veniamo ai numeri. Al 31 dicembre 2022 le imprese artigiane attive nella regione Marche erano 40.657, tante, e questo lo rimarcheremo e torneremo a sottolinearlo dalle colonne del Corriere Adriatico, ma 9.174 in meno rispetto alle 49.831 di fine dicembre 2012. Insomma, il calo è stato nel decennio pari al 18,4%. Taglio basso, MedStore, primo negozio frutto dell'unione con Juice, l'azienda maceratese è pronta ad aprire altri Apple Premium Partner in Italia. Stefano Parcaroli riferisce Grande Holding che gestirà un fatturato di 350 milioni. Tempi di crisi però, renditi sempre più bassi, le famiglie sono ad alta difficoltà, un terzo di quelle maceratesi ha acquisto la certificazione ISEE per accedere a prestazioni sociali agevolate, cresce la divaricazione tra entroterra e costa. Questo è un altro elemento. E in più, tra l'altro, ci sono all'orizzonte importanti contributi e agevolazioni per le aziende operanti, ma anche perché intenzioni di avviare una nuova attività. Torniamo lato imprese produttrici con Fartigianato tra incontri per aiutare le imprese ad ottenere contributi e agevolazioni. Ma torniamo alla cronaca il luogo per ricordare l'artista no a sottopasso per Turbiani, Miliozzi e Valentini, meglio una piazza o una via. La famiglia non è stata interpellata, si tratta di dedicare uno spazio a Valeriano Trubiani di cui gli amici e i familiari chiedono un ricordo in un luogo adeguato. Ancora news, sempre da Macerata, un IMC, elezioni studentesche, migliorare ancora l'università. La Martina Gagliardi è la più votata officina soddisfatta della vittoria. Il commento poi delle altre liste, pagina 10. A Torrentino abbiamo portato in Burundi 14.000 euro di aiuti, cibo, medicina e fondi per progetti dedicati a bambini e giovani. Don Rino, Rino Ramaccioni, con una delegazione in Africa. Il problema principale qui racconta è la fame. Ancora news, siamo a Torrentino, parcheggio in centro, si va verso il disco orario, è stesa la mezz'ora gratuita alle zone rosse. Progetto Campus, si parte con la gara, la sintesi questa dell'ultimo consiglio, delle decisioni del Consiglio Comunale che ha toccato appunto diversi punti. A Camerino arriveranno in città artisti da tutto il mondo, ripartire con la musica, via alle masterclass dell'ABF, il direttore della fondazione Tre Gironi di scrittura creativa con Giovanni Caccamo. Siamo a Civitanova, ora il convento dei Cappuccini a rischio chiusura, ma padre Damiano assicura per ora no. Frati d'Italia in assise plenaria per decidere riguardo allo spostamento dei religiosi. La struttura dei Frati Cappuccini di Civitanova a Marche è stata costruita nel 1625 grazie al sostegno dei benefattori ed oggi la storia come dire si sta riscrivendo. Vediamo, vedremo in che direzione appunto si andrà. E sempre da Civitanova e sempre dal resto del Carlino Macerata spazio aggregativo nei locali della Fornace all'area ex Ceccotti dettagliatamente l'assessora all'urbanistica Belletti diventerà un punto a disposizione della città parliamo di 3400 metri quadrati. Al Civitanova sempre pronti a trasmettere i valori utili il presidente del Rotary Club portiamo avanti tanti progetti premio arti e mestieri all'attanzi e ruggeri. E a Recanati pagina 19 il castello di Montefiore arriva l'ok al progetto lavori di restauro per oltre un milione e ottocento mila euro la struttura sarà utilizzata per la promozione delle attività culturali e sociali. Ci spostiamo ora alle 8.45 sul Corriere Adriatico qui nel primo piano Marche ripartiamo dal tema degli appalti basta tempi biblici è ossigeno per le Marche imprese e sindaci commentano la riforma del codice sui lavori pubblici Lance riferisce inutile allarmismo sugli affidamenti diretti fino a 150 mila euro facciamo una sintesi bandi pubblici di gara sono previsti solo per i lavori sopra la soglia dei 5,3 milioni di euro già fissata dalle normative europee c'è affidamento diretto per i contratti di fornitura dei servizi fino a 140 mila euro per i lavori fino a 150 mila euro i piccoli comuni potranno procedere ad affidamenti diretti fino a 500 mila euro le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere all'appalto integrato a un unico soggetto affidata alla progettazione e l'esecuzione dei lavori ci sono i commenti Ance Marche Stefano Vialoni riferisce corruzione l'ANAC pensi a far bene il proprio lavoro perché c'è anche quest'altro tema Gilberto Gasparoni di Confartigianato bisogna inserire premialità per le ditte a chilometri zero questi alcuni dei commenti c'è un altro tema importante quello se ne parla spesso della semplificazione ecco oggi e sulle colonne del Corriere Adriatico ci sono le parole l'intervista a Guido Castaelli senatore commissario straordinario al post terremoto e riferisce semplificazione uniforme e ricostruzione più rapida nelle marche abbiamo opere pubbliche da appaltare per un valore di un miliardo infrastrutture e relativi finanziamenti il raddoppio al rischio rimoduliamo le scadenze e troveremo altri fondi l'assessore Baldelli dopo l'allarme sui finanziamenti del PNRR destinati al potenziamento della linea Orte Falconara se non arrivano in tempo i soldi da Bruxelles si possono anche spostare le scadenze dell'Unione Europea la risposta a Rixi per opere così complesse gli inconvenienti sono prevedibili ci sono le parole oggi anche della Presidente Acquarola il governo il governo mette in campo tutte le risorse possibili chiaramente sul fronte Marche l'infrastruttura qui al centro dell'attenzione è il raddoppio della Orte Falconara e sono ripartiti 680 milioni di fondi ordinari ma ce ne sono anche altri il tratto Serra San Quirico Castelplanio il secondo lotto Serra San Quirico Genga il raddoppio PM 228 Albacina la tratta Falconara Castelplanio la Fabriano Foligno e anche il nodo di Falconara un report di EBAM riferisce che le Marche sono da primato nazionale sono da primato nazionale ve lo anticipavo dalle colonne del resto del Carlino in questo caso però la notizia è positiva sul fronte delle imprese artigiane in termini quantitativi cioè non in termini di quante imprese artigiane abbiamo rispetto agli scorsi anni abbiamo visto che c'è stato un calo dal 2012 ma al di là di tutto questo sul fronte nazionale le Marche spiccano sono artigiane tre imprese su dieci ecco la media italiana è del 23% qui si sfiora il 30 nel 2022 attiva più di 40.000 ditte il manifatturiero nella nostra regione impiega un quarto del totale degli addetti e poi veniamo alla Pasqua questa è la rassegna stampa del primo giorno di aprile siamo prossimi alla Pasqua si fa come dire un quadro una previsione sulle visite nelle nostre città e c'è anche come dire chi parla di una Pasqua da sold out nei nostri ristoranti dettagliatamente il boom dall'Umbria dal mare alla montagna a un pienone nel maceratese così quantomeno si prevede dalle prenotazioni difficile trovare posto ma il nodo resta il personale non possiamo più prendere le prenotazioni Massimiliano Gigli della Greppia dice appunto c'è carenza di personale di camerieri e nel settore chiaramente cucina e poi ci sono le aperture straordinarie ed eventi proposte per tutti i gusti e tutte le età in particolare a Macerata l'assessore Cassetta riferisce così ci prepariamo ad accogliere turisti residenti ancora avanti andiamo e ci spostiamo ora sulla cronaca l'abbiamo data questa notizia la banda dei furti scattano tre denunci nel maceratese rubati a oro gioielli serie di controlli da parte dei carabinieri e poi la vicenda da Montecavallo vive dal 2017 in una side a 40 metri quadri il comune chiede affitto a retrati la somma ad avversare di 2132 euro di cui 34 chiaramente al mese Camillozzi una situazione paradossale una donna si è vista recapitare quindi questa richiesta di affitto mensile dalle verifiche effettuate dal comune di Montecavallo su richiesta della regione Marche la signora prima del terremoto ora vive in una side ma prima viveva a Montecavallo in un comodato d'uso gratuito nella abitazione di un familiare che poi è stata dichiarata inagibile ci spostiamo ora sulla pagina di San Severino Marche c'è l'emergenza pediatri anche Castellini è andato in pensione il consigliere Borioni da più di un anno la nostra comunità è sguarnita di un adeguato servizio il nuovo campus poi a Torentino via la gara d'appalto abbiamo ricevuto il decreto dell'USR l'annuncio di sclavi per la nuova costruzione in zona pace faremo di tutto per rendere l'iter veloce e poi e poi sempre a Torentino c'è il tema occupazione Maserati o Tigamaro Gaia sceglie la seconda la decisione in controtendenza di una 39enne voglia una qualifica specifica i giovani lasciano il lavoro alle piccole e medie imprese perché attratti dalle offerte delle griff in genere è così in questo caso possiamo dire che il percorso è stato invece contrario ancora avanti i balneari poi siamo a Civitanova costretti a ritoccare i prezzi erano fermi da anni ora inevitabile i concessionari di spiaggia si preparano alla stagione piccoli aumenti per mantenere la qualità chiusa l'abat al suo posto sta sorgendo l'abc con Mantovani nel ruolo di presidente e poi c'è anche un altro tema quello della direttiva Bolkestein e riferiscono i balneari volevamo comprare un forno nuovo ma con la Bolkestein ci limitiamo all'essenziale ecco qua e veniamo ora sempre a Civitanova al tema della proposta di Caldaroni le fieri mercatine adesso si cambia il comune crea un gestore unico scelta necessaria dopo la riduzione del personale dell'ufficio commercio e poi e poi lo dicevamo lo dicevamo dal resto del Carlino qui viene ricordato a Recanati il cantiere anzi il restyling del castello di Montefiore l'ok della giunta al progetto definitivo come sapete il Montefiore parte del territorio comunale Recanati il castello di Montefiore è un simbolo anche della cittadina non solo quasi due milioni di lavori per dare nuova vita alla struttura l'assessore il sindaco bravi riferisce pronti a partire fiordomo l'assessore riferisce spazio suggestivo che potrà essere un luogo di aggregazione potrebbe entrare a far parte della rete museale Recanatese dall'altro lato riferisce poi Rita Soccio altre notizie sono le 8.52 passiamo ai quotidiani online ripartiamo dalle ultime news di cronache e mangiare la tesi in primo piano c'è il tema degli incidenti l'allarme nel maceratese dettagliatamente 14 mesi più di 1000 incidenti 12 morti non passano notte senza una denuncia per guida sotto l'effetto di alcol o droghe questa è la situazione sul territorio i dati sono stati resi noti dal comandante provinciale dei carabinieri il colonnello Nicola Candido e poi ancora notizie i controlli a tappeto appunto dei carabinieri identificate 130 persone fermati 100 veicoli due denunce patenti ritirate il bilancio di un servizio messo in campo dai militari della compagnia di macerata su tutto il territorio di competenza altre news tra le ultime pubblicate su cronache maceratesi accoltellata sul pianerottolo grave un'avvocata 34enne abbiamo dato questa notizia la donna un'amministratrice di sostegno di macerata è stata aggredita dal suo assistito a 5 fendenti i fatti sono accaduti a Filottrano la SAE il comune batte cassa a Montecavallo chiesti oltre 2000 euro di affitto e arretrati dopo quello di Ussita un altro caso di soldi chiesti a una terremotata e poi si spacciano per carabinieri attenzione alle truffe telefoniche a Pollense la sindaco Mauro Romoli lancia l'allarme dopo essere stato avvisato di diversi tentativi di reggiro e ancora news ci spostiamo su picchionews.it altro quotidiano online perde il controllo della moto e finisce contro un albero muore un 39enne un incidente stradale mortale nella serata di giovedì a Pesaro e poi furti in abitazioni dalla provincia di Pescara quella di Macerata denunciati tre ladri seriali fatti risalgono al 6 marzo scorso e poi tra le altre news ci sono le news dal Fermano con la cronaca e Fermane vediamo anche qui il primo piano la situazione sul fronte sicurezza a Fermo ieri mattina il sindaco di Fermo ha preso parte da un comitato urgente per la sicurezza che si è svolto in prefettura spari e risse macete in mano calcinaro le pistole allarmante le pistole allarmante novità chiedo scusa da affrontare comitato urgente in prefettura appunto lì tre archi blindato è lì se vogliamo che si concentrano i fenomeni da quando sono sindaco non era mai volata una pallottola è un fatto gravissimo unità di intenti con le forze dell'ordine dobbiamo capire come reagire questo elemento di novità che non va sottovalutato intanto le forze dell'ordine dopo gli spari che appunto si sono sentiti alle due tre archi hanno scongiurato ulteriori aggressioni a colpi di macete in strada possibili ritorsioni al ferimento dell'uomo nell'appartamento in via Tobagi insomma si fa una sintesi di quelle che sono le notizie di cronaca dal Fermano dalla città di Fermo in particolare e su questo appunto si punta l'attenzione l'attenzione sul tema della sicurezza da cronaca ancora un punto it la vicenda da Filottrano l'avvocata coltellata sul pianerottolo ha rischiato la vita il suo assistito accusato appunto di tentato omicidio lui sessantenne è stato arrestato lei 34enne Federica Maccioni avvocatessa di macerata è ricoverata nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Iesi Marchemedia.com qui le ultime news c'è il tema della via lauretana in corso la valutazione della domanda di iscrizione nel registro dei cammini religiosi tra le ultime news e poi vi ricordo che Marchemedia.com rinvia al sito di radionuovo.com qui tra gli ultimi tra gli ultimi appuntamenti vi ricordo quello della passione che torna a Santa Croce a Macerata oggi in partenza dal monumento ai caduti si ripropone appunto nella serata di oggi alle 21 l'occasione per rivivere gli eventi più importanti significativi della settimana santa l'ingresso a Gerusalemme l'ultima cena il processo Gesù e la condanna la salita al Calvario e la crocifissione uno spettacolo che ritorna dopo lo stop forzato dalla pandemia già lo scorso anno il maltempo lo aveva messo lo aveva permesso non aveva permesso la messa in scena di questa tradizionale rappresentazione della passione a Macerata e oggi sabato 1 aprile alle 21 ritorna e torna che prenderà il via in via le martiri della libertà l'invito chiaramente a partecipare è rivolto a tutta la popolazione allora sono le 8.57 e veniamo alle previsioni meteo dal sito della protezione civile delle marche le previsioni per la giornata di oggi sabato 1 aprile 2023 ecco le previsioni danno un cielo irregolarmente nuvoloso per nubi orografiche alternate ad ampie schiarite nella prima parte della giornata dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sulla fascia collinare costiera centro-settentrionali durante le prime ore della notte rovesce e temporali sparsi sul settore centro-settentrionale in rapido esaurimento nelle ore centrali della giornata sviluppo di temporali localmente forti sulla fascia basso-collinare costiera-settentrionale le temperature senza variazioni di rilievo le massime e in aumento le minime il mare poco mosso le previsioni per la giornata di domani domenica 2 aprile sulle marche avremo un cielo irregolarmente nuvoloso per nubi bassi in ingresso dal mare con maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici precipitazioni brevi rovesci sparsi più insistenti sulla fascia appenninica le temperature saranno in diminuzione i venti nord-orientali moderati con raffiche di vento fino a burrasca lungo la costa il mare molto mosso radionuovo.com per tutte le ultime news oltre ai titoli la sua seconda parte torna alle ore 10.05 con Roberta Foresi replica alle 13.30 e alle ore 20 il GR andrà in onda su queste frequenze alle 12.30 18.40 e 22 materiale audio che potete riascoltare sul nostro sito appunto radionuovo.com sulla piattaforma Soundcloud insieme a tante altre news seguiteci sui social su facebook su twitter su instagram di Radio Nuova è tutto da parte di Marco Morosini grazie per la cortese attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti